Musica Sono 11 anni di lavoro per le attività dell'associazione sul territorio che vanno con una partenza dall'oncologia con l'ospedale infantile Burlo Garofolo per poi arrivare all'ospedale di Monfalcone, a tante altre realtà e a realtà anche di famiglie che hanno delle difficoltà per cui noi cerchiamo nel nostro piccolo di sostenerle. L'associazione Solidarietà Evita ha donato ai reparti di ostetricia e ginecologia di Gorizia e Monfalcone un sistema di radiofrequenza C500 completo di accessori del valore di quasi 31.000 euro. Uno strumento di trattamento per le donne che vengono operate al seno per tumore alla mammella le quali non possono ricorrere alle terapie ormonali in caso siano affette da patologie del tratto genitale che possono sorgere dopo la guarigione causando fastidi e dolori con cui è difficile convivere. Questa è un'apparecchiatura a radiofrequenza che determina il riscaldamento dei tessuti e riattiva il metabolismo cellulare. Si tratta di una sonda endovaginale lubrificata che viene messa in vagina e riattiva il microcircolo, stimola la produzione di collagene e di lastina permette anche di idratare maggiormente le mucose in modo tale da risolvere quella che è una patologia piuttosto comune soprattutto nelle donne malattie di tumore alla mammella che è l'atrofia vaginale. L'importanza di questa donazione risiede anche nel fatto che normalmente per questo tipo di trattamento si ricorre a strutture private con costi non indifferenti per la paziente. In questo caso è la sanità pubblica usufruirne, una terapia che viene garantita a titolo gratuito. Questo è uno strumento che può essere utilizzato anche per altre patologie anche nelle donne in menopausa fisiologica per dire anche con degli effetti cosmetici ma non è quello che noi vogliamo fare. Noi vogliamo dedicare un aiuto a quelle donne che hanno avuto questa sfortuna ma non possono approfittare di altri metodi per migliorare gli effetti collaterali che possono derivare da questa patologia. Questo credo che sia uno dei migliori risultati se teniamo presente che questa attrezzatura nel pubblico esiste solo in 3 o 4 centi in Italia quindi è un segnale molto importante, è un segnale di sensibilità ed è un segnale di preoccupazione rispetto alla qualità di vita di pazienti che comunque devono ritenersi pazienti sane, si preoccupano ovviamente del rischio di ricaduta ma in questo la stragrande maggioranza delle pazienti non ricade. Guarisce però con delle conseguenze relative alle nostre terapie che oggi in parte con questo apparecchio siamo in grado di affrontare. Nell'occasione l'associazione Solidarità Evita ha annunciato l'imminente consegna al reparto di otorinolaringoriatria di un microscopio ottico con telecamere per migliorare l'attività di ambulatorio di rinologia clinica. Il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana ha rimarcato l'importanza della sinergia tra enti e associazioni che contribuiscono al lavoro della sanità pubblica. La vicinanza con le associazioni, con i volontari, con istituzioni finanziarie del territorio denotano un'attenzione e una valorizzazione importante del lavoro che i professionisti sanitari, medici, infermieri, assistenti, operatori fanno quotidianamente e questo esprime anche una generosità che è tipica di questo territorio.